Siamo ancora nel nostro salotto letterario di Cada Sanremo, Cada Sanremo Writers 2024, ormai ci siamo, abbiamo con noi nel nostro salotto un'altra autrice, è stata selezionata per quest'anno, do immediatamente il benvenuto a Rosa Maria Mauceri. Rosa Maria, benvenuta. Grazie mille, grazie per l'invito che mi onora tantissimo. Rosa Maria non è in Italia, sei in Germania, giusto in questo momento? Esatto, sono in Germania. Stiamo chiamando per presentare questo tuo romanzo che si intitola Una verità rubata e che tu presenterai a Cada Sanremo durante proprio la Kermess, il festival della canzone italiana. Voglio però chiederti una cosa, cominciamo subito col dire che stiamo parlando di un libro che racconta una storia, è un romanzo ma non è una storia inventata, è una storia vera. Purtroppo, purtroppo Lucio, sì, questo non si può chiamare un romanzo ma una storia che racconta il dramma di una famiglia e siamo ancora nel vivo di questo dramma perché vado alla ricerca di una sorella tolta con l'inganno a mia mamma un giorno dopo la sua nascita. Questo avviene in Sicilia, lei è nata da Geriale ed è scomparsa a Catania. Non ne sapevo nulla di questa storia, di questo dramma. Banalmente, vent'anni fa, me ne parla mia mamma che il mio nome è Rosa, deriva da mia sorella che era nata prima di me. Naturalmente io cado da nelle nuvole e chiedo di cosa sta, sta parlando di quale sorella. E così lei mi racconta com'è avvenuta la scomparsa della bambina e visto che sono nata in un nucleo familiare felice, ma un nucleo familiare molto violento, quindi ho sentito la necessità di raccontare la prima parte di questo libro, di come sono cresciuta dalla mia infanzia per poter raccontare anche chi era quell'uomo, mio padre biologico che poi non chiamo mai padre ma individuo, per poter dare anche una spiegazione nella seconda parte che si tratta della ricerca, perché io faccio questa ricerca sfidando tutte le istituzioni per scoprire la verità, trovare dei documenti che dimostra la veridicità dei fatti che mia sorella è viva. Tu sei ancora alla ricerca, cioè il tuo libro è raccontare una storia, ma la storia, la ricerca è ancora in corso. Posso dirti Lucio che è tutto nel vivo e non voglio rievelare troppo e quindi c'è anche un cortometraggio che passerà anche a Casa Saremovheit che dimostra, dove ho anche pubblicato tutta la documentazione che ho trovato durante quest'indagine. Vedendo il cortometraggio, leggendo anche il racconto, si capisce dove siamo, a che punto è questa verità rubata. Ma è nato tutto per caso? Tu mi raccontavi così soltanto che un giorno, magari parlando con tua madre, hai scoperto di avere quest'altra sorella? Sì, lei era qui a casa mia a Monaco di Baviera e lei mi racconta di questo certificato di famiglia che lei ritirò al comune dove ancora figuravamo tutti e cinque figli, mi dice lei, ma io ho sempre saputo eravamo quattro e così nasce questa conversazione dicendomi si chiama Rosa, Rosa Antonina. Ma io sono in parte, mi chiamo anch'io Rosa e dico ma scusa non ho mai chiamato Rosa per la nonna perché si sa, si dà quelle tradizioni che c'erano una volta e così mi racconta del fatto. La pelle d'oca naturalmente perché io subito ho delle prime immagini quando mamma mi racconta di questo e vedo quell'uomo, quell'individuo di mio padre biologico dove dico c'è qualcosa che non torna. Mamma lo racconta come se veramente sua figlia fosse veramente morta. Invece io lì ho potuto intuire che qualcosa non tornava. Fino a oggi sono andata in questa ricerca sfidando molte cose, sicuramente non sono stata sempre prudente perché delle intimidiazioni ne ho avuti, però io mi dico che se non alzo la voce è molto più pericoloso che se sto in silenzio. Ecco perché urlo, denuncio, ho denunciato tanto e là dove la giustizia non è arrivata ma diciamo così ho pensato di utilizzare la cinematografia e pubblicare da sola tutti i documenti e ho fatto una relazione di quello che è stato durante questa ricerca. Devo ringraziare un maresciallo, non farò il suo nome che mi ha aiutato. Grazie alla sua uniforme io sono potuta entrare in tante istituzioni per arrivare a delì dai documenti. Quina tu è una ricerca della verità costante fino a quando non troverai le tue risposte perché come ho capito insomma è una tua ricerca personale a questo punto è diventata con l'aiuto magari anche della scrittura per far conoscere questa storia. Sì Lucio è sicuramente una storia personale ma io credo che questa non è più personale dal momento che ne parlo perché non si parla di una bambina scomparsa si parla di un'organizzazione si parla di un'adozione illegale e quando è illegale per me già si parla di vendita non può essere solo quella della mia famiglia o solo quella una storia che racconto io personalmente perché deve essere mia. Dal momento in cui io la metto in pubblico vuol dire che qualcosa deve arrivare ma non a una persona ma a tante persone qui stiamo parlando che è scomparso una bambina. Quindi un sistema dici tu ma alla fine poi... Assolutamente ma io lo dimostro io dimostro la documentazione io non rimango in silenzio ma parlo con quello che ho nelle mani quindi parlo di fatti. Con le prove come dici tu con le prove. Tutto è pubblico. Noi aspettiamo, ti stiamo vicino ovviamente in questa tua ricerca, aspettiamo Rosa Maria Mauceri a Calasarremo Writers con una verità rubata e ci saranno anche non soltanto il libro ma diceva, sottolineava già Rosa Maria, un cortometraggio da cui poi si capirà ancora meglio a parte la lettura del libro che tutti quanti sicuramente vorranno fare spero in tanti per insomma conoscere questa tua storia che poi diventa un po' la storia di tutti e di tante altre persone. Ti ringrazio per essere stata con noi. A te, a te. Come si dice in questi casi, ci vediamo a Sanremo. A bianco. Ciao. Ciao.